Sabato a Verissimo, una puntata da non perdere. Nina Moric, le sue emozioni, i suoi tormenti dopo gli anni più duri. Direttamente dal grande fratello VIP, Maurizio Battista. Ritorna dopo anni di assenza il leader dei Modà, Checco Silvestre. Un cantante, un attore, l'eterno ragazzo. In esclusiva Gianni Morandi. Con Silvia Toffanin, Verissimo. Sabato alle 16.10 su Canale 5.